Tante le iniziative per il centenario, con un occhio sempre all'educazione stradale a cui voi tenete molto. Sì, l'educazione stradale per noi è fondamentale e le iniziative del centenario sono tantissime. Inizieremo il 16 maggio con questo evento, con questo convegno presso l'università, dove voi giornalisti siete tutti invitati, tra l'altro potete usufruire dei crediti formativi. Lì parleremo del come comunicare la sicurezza stradale e lì parleremo di questa mitica storia dell'automobismo sportivo in Abruzzo, ma in modo particolare a Teramo, che ci ha pervaso praticamente fino a qualche anno fa, quando le corse erano molto più gestibili dal punto di vista organizzativo, fino ai famosi rally. Immaginate che Teramo è stata protagonista negli anni 70 e 80, fino agli anni 2008, 2009 e 2010, praticamente di tanti rally, il rally d'Abruzzo, il rally del Gran Sasso, il rally città di Teramo, e da tutta Italia praticamente i più grandi piloti hanno partecipato a queste manifestazioni. Il circuito del castello a Teramo torna il 25 maggio. Sarà una rievocazione, ma io ho puntato, noi tutti del Consiglio abbiamo pensato che questa deve essere una festa, una festa non solo degli automobilisti sportivi, ma soprattutto una festa di noi terramani. È un motivo di orgoglio. Oggi Teramo, la provincia di Teramo, ha bisogno di avere questi momenti forti, che servono sì per ricordare le nostre gesta, quindi per fare storia, ma la storia ha un senso se riusciamo attraverso la storia a identificarci come persone, come comunità, quindi a scrivere, a capire il presente e quindi scrivere il futuro.